Avere una webcam disponibile, pronta a scattare immagini su Marte. E' questa la ghiotta occasione proposta dall'ESA e la videocamera in questione è la VMC, ovvero la Visual Monitoring Camera a bordo della sonda Mars Express. Un contest aperto a scuole, gruppi di amatori e in generale a chiunque voglia presentare una proposta all'Agenzia Spaziale Europea. Nel mese di maggio il pianeta rosso si troverà in congiunzione con il Sole, i segnali radio tra la sonda e la Terra saranno interrotti e le attività scientifiche saranno quindi sospese. In virtù di questa pausa forzata, nei giorni 25, 26 e 27 di tale mese, sarà possibile approfittare della VMC e partecipare alla sessione fotografica marziana. Le proposte riguardanti i target da fotografare e i progetti sul successivo utilizzo del materiale ottenuto dovranno essere inviate all'ESA entro il 27 marzo. Sarà concesso un numero di slot pari ad 8 che potrà variare in base al numero delle proposte selezionate, che saranno chiaramente quelle con il più alto valore educativo. Il prossimo 19 marzo il team di Mars Express pubblicherà su YouTube un video tutorial per mostrare la metodologia di acquisizione di immagini della camera VMC. Grazie a tutti!